Il Era il 16 luglio del 1969 ed erano le 9.32 minuti ora locale quando in Florida il countdown di Edelvia al lancio della navicella spaziale Apollo 11 che avrebbe portato per la prima volta nella storia dell'umanità due uomini sulla Luna e Matera, capitale europea della cultura 2019, ha voluto ricordare questo importante momento storico con il progetto Matera vista dalla Luna, promosso dalla fondazione Matera Basilicata 2019 con una ricca rassegna che dal 16 al 24 luglio ha offerto spettacoli, presentazioni di libri, proiezioni di film, allestimenti sul tema della Luna. La spinta propulsiva al progetto Matera vista dalla Luna nel ricordo dello storico allunaggio che festeggia il cinquantesimo anniversario è arrivata dall'orgoglio motivato dalla presenza in quell'equip del lucano Rocco Petrone, il top manager della NASA che ha diretto la missione spaziale. Rocco Petrone è un grandissimo lucano, fondamentale per questo viaggio, ha scandito i tempi del viaggio sulla Luna e a lui sono dedicati molti molti momenti. Proprio qui a Palazzo Lanfranchi ci sarà la presentazione di un libro e di un documentario molto importante dedicato a lui, ma naturalmente non solo momenti dedicati ai libri, al cinema, ma è importante anche il gioco, tutte le fantasie che in qualche modo la Luna ha espresso, ha diffuso. Lunedì 15 luglio l'anteprima ospitata nell'affascinante location di Cava Paradiso che ha abbracciato con le alte e possenti mura di tufo i suoi ospiti ammaliati intenti a fotografare l'unione tra passato e presente, tra natura, arte e scienza. Nano Gagliato Festival ha incontrato Matera 2019 con gli scienziati dell'Accademia di Gagliato delle nanoscienze che hanno dialogato con il pubblico a proposito di scienza, nanotecnologia e spazio. Petrone ha contribuito in maniera straordinaria ai programmi della NASA, compreso naturalmente lo storico allunaggio. Io sono 15 anni che vivo a Houston, nel Texas, lavoro moltissimo con la NASA, ho degli esperimenti sulla Space Station in questo momento, quindi la collaborazione sulle tecnologie avanzate per lo spazio per avere ricadute, per portare benefici sulla Terra è un tema straordinariamente importante per noi, quindi ho lavorato con Basoldrin per esempio, con tanti altri magnifici astronauti, tutti gli astronauti italiani sono a Houston a fare il loro addestramento, quindi li conosciamo e apprezziamo tantissimo le loro qualità. Il fatto che si parli di grande tecnologia in un fenomenale centro di cultura, unico al mondo come Matera, secondo me lancia esattamente il messaggio giusto, senza il cuore culturale tutto il resto della tecnologia rischia di essere una cosa non solo inutile, ma in qualche modo anche dannosa. 50 anni fa non si immaginava neanche, ancora ci sono molte persone che dicono quale impresa è stata quella di arrivare sulla Luna, che era una visione, era un sogno. Io credo che Matera 2019 abbia voluto sposare quest'idea perché 10 anni fa chi l'avrebbe mai detto che noi saremmo diventati come Matera capitale europea della cultura, quindi è un sogno da coltivare ed è il giusto anniversario da celebrare. Le celebrazioni si sono aperte ufficialmente il 16 luglio con il corteo Missione nello spazio urbano. Il percorso si è snodato da Piazza San Giovanni a Piazza San Francesco per poi allunare in Piazzetta Pascoli, impreziosito da momenti musicali della cantante Caterina a Pontrandolfo e guidati dall'attore Francesco Giorra. Non la mia musica, sono insomma canti, canzoni, celebri canzoni dedicati alla Luna, è stata una piazza bellissima, quindi è stata una bellissima serata. Poi lei è stata bravissima perché si è adattata a delle situazioni non proprio tue convenzionali abituali, quindi dalla piazza alla piazzetta, alla fontana, è stata bravissima, veramente. Qui può succedere di tutto ma alla fine la piazza risponde sempre c'è vitalità, c'è voglia di fare. Questo elemento qua è veramente l'elemento frizzante. Poi abbiamo mangiato i sassi lunari che non capita tutti i giorni. Nel dossier di candidatura avevamo proprio questo aspetto che si chiama Cosmic Jive e anche perché siamo fortemente ispirati alla presenza del Centro di Odesia Spaziale che è una delle immagini iconiche del nostro dossier di candidatura e che è appunto lì dove dall'altra parte della gravina in quel paesaggio lunare capta i segnali delle stelle per leggere i futuri movimenti della Terra. Quindi è per noi un'eccellenza e che ha ispirato tanti i nostri progetti. Il ricco programma dedicato al cinquantesimo anniversario dallo sbarco dell'Uomo sulla Luna è proseguito nella giornata del 17 luglio nella terrazza di Palazzo Lanfranchi dove si è svolto l'evento Luna Italiana. Il ricordo e l'omaggio alla figura e al ruolo di Rocco Petrone, un lucano che è stato tra i principali protagonisti della missione Apollo 11 e la cui storia di emigrato ha affascinato il mondo. Nel corso della serata è stata presentata la nuova edizione del libro di Renato Cantore dedicato a Petrone cui ha fatto seguito la proiezione del cine documentario Luna Italiana Rocco Petrone e il viaggio dell'Apollo 11. Questo libro credo renda merito a un personaggio che è stato un personaggio chiave della missione per lo sbarco del primo uomo sulla Luna. In quarta ricopertina metto il giudizio dell'ingegnere capo delle operazioni di lancio a Kepp Kennedy che dice che senza Rocco Petrone probabilmente non saremo mai andati sulla Luna. Questo credo renda più di ogni altro ragionamento l'idea dell'importanza del personaggio. Per noi che promuoviamo l'idea di Matera Basilicata come un'eccellenza che guarda al futuro la figura di Rocco Petrone è sicuramente una figura esemplare. Una persona che non ha paura di pensare al futuro che però è molto pratica, molto concreta, che guarda anche i dettagli e d'altra parte riesce a far partire la missione accorgendosi di un errore di filettatura, di un bullone. Quindi è l'esempio di un grande intellettuale contemporaneo, qualcuno che ha grandissime ambizioni, lavora per la collettività ma sa che il suo lavoro è un lavoro sostanzialmente molto pratico e molto tecnico e quindi per noi è un grande esempio. Abbiamo cercato di ricostruire la vita pubblica di Rocco Petrone attraverso i documenti ufficiali. Questo per due ordini emotivi. Da un lato per dimostrarne l'importanza, cioè se la BBC fa uno speciale sulla Luna e parla con Rocco Petrone vuol dire che Rocco Petrone era esattamente quello che sappiamo che fosse, cioè il numero 3 della NASA e quindi una persona di un'importanza fondamentale per la conquista della Luna. D'altro canto era anche importante far vedere come quest'uomo avesse conquistato qualcosa che nessun altro immigrato italiano aveva conquistato e questo è molto molto importante. Quindi il documentario vuole essere una testimonianza del grande valore e della grande determinazione di questo personaggio straordinario, il punto che la sua storia sembra una favola ma è vera. All'inizio del 1921, tre mesi prima che l'America chiudesse le frontiere con la prima legge anti-immigrante. In che cosa era italiano, in che cosa era lucano Rocco Petrone? Sicuramente nella determinazione, nella testardaggine. Infatti il documentario si apre con una frase, se non ci fosse stato Rocco Petrone, detta tra l'altro da un ingegnere della NASA, se non ci fosse stato Rocco Petrone non saremmo mai andati sulla Luna. Ecco, credo che sia la testimonianza della testardaggine di una persona che ha messo il suo essere italiano nell'essere determinato fino in fondo, nell'avere portato fino in fondo l'uomo sulla Luna. In piazzetta della cittadinanza attiva, il poeta e scrittore Davide Rondoni, che nell'evento Infinito e la Luna, nelle visioni poetiche di Giacomo Leopardi, ha presentato il suo ultimo libro, E come il vento, l'infinito, lo strano bacio del poeta al mondo, in cui ha raccontato la Luna, vista dal grande poeta dell'Ottocento, a 200 anni dal celebre componimento L'Infinito. L'uomo è andato sulla Luna, Leopardi c'era andato prima, diciamo così, in senso che i poeti hanno sempre avuto questo rapporto con la Luna, Leopardi ha scritto delle cose meravigliose, dal canto notturno alla Luna, il tramonto della Luna, perché la Luna è questo segno appunto, che appena alzi gli occhi lo vedi e dici, beh, cosa mi sta dicendo il cielo, cosa mi sta dicendo la vita? E Leopardi prende sul serio questo segno, che non ha diminuito la sua forza, come già diceva Ungaretti, anche se l'abbiamo calpestata. Anche oggi se alziamo gli occhi alla Luna, sì, c'è stato l'uomo sopra, ma quello che importa è il segno. La cava dell'Infinito il sole, nella serata del 18 luglio, nella cornice del cartellone di eventi Matera vista dalla Luna, in occasione dei primi 50 anni dal primo approdo dell'uomo sulla Luna, ha proposto Apollo Soundtrack, concerto multimediale che ha visto sul palco la band britannica del Icebreaker. L'idea originaria alla base del progetto è nata negli anni 80, quando Brianino immaginò di dedicare allo sbarco sulla Luna un vero e proprio documentario sullo slancio dei ricordi di chi aveva assistito all'avvenimento. Le musiche registrate confluirono nel nono album del celebre musicista, composizioni firmate insieme al fratello Rogerino e al produttore canadese Daniel Lanois. Io penso ci sia una tristezza in questo momento, in questa performance, perché l'Apollo Project era un progetto che portava con sé un'identità e una promessa scientifica, ma anche una promessa per l'umanità, una speranza di cambiare il mondo, di creare un mondo migliore e questo è qualcosa che non ho successo e quindi mi crea una grande sofferenza. Semplicemente io direi che le persone dovrebbero essere più gentili le une con le altre. È uno dei posti più belli che abbia mai visto nella mia vita, non vedo l'ora di avventurarmi nei sassi e di esplorarli perché sono molto interessato alla storia, alla preistoria e quindi è una grande occasione. L'esibizione è stata impreziosita e contaminata dagli ingrandimenti delle immagini NASA con i contenuti generati da Leonardo, sponsor esclusivo dell'evento organizzato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 che contribuì allora alla straordinaria operazione e contribuisce oggi alle maggiori missioni internazionali di esplorazione spaziale, come nel 2020 la missione ExoMars. Il gruppo della difesa e dell'aerospazio è presente a Matera dal 1994 nel centro spaziale di Matera tramite Telespazio. Noi a Matera siamo presenti con la nostra divisione che si occupa dello spazio, è un mondo iperaffascinante che ci proietta nella storia, stiamo per festeggiare i 50 anni dall'allunaggio ma ci proietta anche moltissimo nel futuro. È una delle aree nelle quali si vive di più come la tecnologia possa far migliorare la qualità della vita. Sempre alla Cava del Sole è un altro importante appuntamento con la musica. Il 19 luglio i Subsonica, con il loro inconfondibile sound, hanno avvolto la folta platea per un viaggio che ha ripercorso due decadi di successi. Un suono in loro che da sempre vibra moderno e li fa senza dubbio una di quelle avanguardie musicali della scena italiana nate negli anni 90 che ancora profuma di novità. L'ottavo album intitolato, semplicemente otto, ne è la conferma. Cercare nei propri istinti musicali e creativi un linguaggio sempre nuovo e sempre aggiornato, questa è un po' la ricetta che noi utilizziamo. Amiamo scrivere, raccontare il nostro mondo, poi in qualche modo dimenticarlo e reinventarlo al disco successivo. Questo è un periodo comunque fortunato per la musica. Diciamo che partiamo da un assunto che è molto semplice. La musica è la forma d'arte, la forma di comunicazione probabilmente più istintuale ma anche più necessaria all'essere umano. Quindi se tante persone non hanno alcun interesse nei confronti della cultura e dell'arte in generale, è difficile che nessuno abbia una colonna sonora. Quindi ogni decade, adesso anzi neanche più ogni decade, adesso quasi ogni biennio ha una generazione nuova che viene e ogni generazione ha necessità di una voce. C'è sempre stata una voce, ci sarà sempre una voce che racconterà il presente e la contemporaneità. Matera è un luogo meraviglioso, non sta neanche a noi sottolinearlo. Ci sembra idealmente di chiudere un abbraccio fra Torino e Matera perché comunque all'interno di questa gestione creativa di Matera Capitale della Cultura c'è un torinese, ce lo dovete poi ridare, Paolo Verdi. Quindi c'è una quota a parte di Torino, per noi è simbolicamente molto forte la partecipazione questa sera qui a Matera. Il 20 luglio sempre per il cartellone di eventi Matera vista dalla luna, il concerto in piazza San Giovanni, The Sound of the Spirit, è presso l'ex ospedale San Rocco la prima mondiale del Missa Vox Dei per core orchestra, composto dal maestro Nicola Campogrande. La luna è il nostro aspetto più tangibile legato al cielo, l'unica sul quale noi siamo arrivati. Questa messa, se vogliamo, va un pochino più su. Ci immaginiamo che se Dio esiste forse abita dove noi non riusciamo ad arrivare, però la nostra voce, sì, il nostro suono, i nostri strumenti servono anche a mandare qualche cosa di noi nell'aria e dunque verso il cielo. Io me lo immagino che arrivi proprio in questa serata speciale una voce che, chissà, ci dà una svegliata. I nostri project leader, due si sono unite, Ateneo Musica Basilicata e LAMS, per creare questo evento unico. Con la ricorrenza della lunaggio si fa riferimento anche alle grandi voce, comprese anche le voce bulgare, e queste voce che creano il suono dello spirito. Vogliamo mettere l'anima in primo piano e poi con questa chicca di una composizione dedicata a Matera e al suono dello spirito da Campogrande. Al ricordo dell'allunaggio non poteva non aggiungersi l'Agenzia Spaziale Italiana, dove, presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera, oltre alla ricorrenza della conquista lunare, si è voluto ricordare Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte. Volevamo un po' commemorare questi due eventi, perché appunto quest'anno non solo c'è il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna, ma il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e quindi il genio di Leonardo da Vinci, con questa grande avventura dell'uomo sulla luna, meritava di essere celebrata. Ci sono molte connessioni fra quella che è stata l'attività di Leonardo da Vinci con le attività spaziali. Anche lui è stato un precursore, se vogliamo. Questa data vogliamo ricordare questi due avvenimenti, il cinquantenario dello sbarco sulla luna e il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, perché Leonardo da Vinci è stato artista, è stato scienziato, è stato uomo di lettere, è stato uomo d'arte, è stato il più grande ingegnere di tutti i tempi. Lo sbarco sulla luna sicuramente sta diventando un argomento di grande interesse, sia per l'esplorazione spaziale futura, in quanto la luna potrebbe diventare un avamposto per l'esplorazione dell'universo, e poi certamente anche per capire come si può studiare la vita dell'uomo nello spazio. Infatti Luca Parmitano, la missione che parte proprio oggi, nel ricordo della missione di Apollo 11, parta alle 18-28, cioè è previsto il lancio, ricorda lo sbarco lunare perché la missione Beyond del colonnello Parmitano praticamente prevede studi, finalmente studi, sulla Stazione Spaziale Internazionale per l'esplorazione dell'universo. Infatti nello stemma del patch della missione Beyond c'è Marte, c'è la Luna e c'è la Terra. E questo per dire apriamo nuovi orizzonti per l'esplorazione dell'universo. E questo per direncio è un'esplorazione dell'universo. Il vasto programma di eventi all'interno del progetto Matera Vista dalla Luna si è concluso il 24 luglio alla Cava del Sole con il concerto Sinfonia per l'Europa dedicato a Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Questo è l'anno del Capitale Europea di Cultura. Ho scelto un programma che potrebbe almeno rappresentare tre grandi tradizioni. Non si poteva fare eventi di tradizione, chiaramente, per tutta l'Europa. Però scegliendo tedesco, francese e italiano sono i tre pilanti principali. Beethoven, Bizet e Respighi come programma. Per me è un grande momento di venire a Basilicata e vedere. Io avevo i bisnonni, cioè materni, i nonni di mia madre che sono nati e immigrati da Calvello, in Basilicata. E nei prossimi giorni farò anche una visita lì. Grazie alla gentilezza del sindaco di Calvello andiamo tutti in famiglia a vedere i radici. Io sono in una chiesa di nascita, anche i miei genitori. Noi siamo un porto che è stata, a un'epoca, la grande accoglienza in America. Siamo tutti immigrati. Noi siamo un paese di immigrati. Immigrazione e siamo diventati grandi grazie a questa immigrazione. Lo so che l'immigrazione ora è un grande tema politico in America, che mi dispiace moltissimo perché eravamo un paese che ha dato un benvenuto all'immigrazione e che abbiamo profittato e cresciuto grazie all'immigrazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.